ciao a tutti bentornati sul mio canale veri asmr io sono federica e quello che state per guardare oggi è un nuovo video asmr rilassante in particolare questo sarà un get ready with me cioè un video molto molto semplice in cui mi preparerò insieme a voi direttamente dalla mia postazione trucco il trigger centrale di questo video sarà ovviamente il whispering quindi il sussurro e di cosa parleremo vorrei raccontarvi innanzitutto una piccola novità una tentazione a cui ho ceduto e poi parlarvi dell'esperienza romana insieme a Sara del canale Sara J asmr e velia del canale black moon asmr perché qualcuno di voi già lo sa queste due ragazze sono state ospiti a casa mia per alcuni giorni proprio pochissimo tempo fa quindi vi racconterò un po di backstage diciamo così le mie impressioni su di loro e su quello che abbiamo fatto visto che vi ho chiesto se l'argomento potesse interessarvi e mi avete risposto tutti di sì bene indossate le cuffie e iniziamo eccomi allora supportate la mia faccetta struccata ancora per qualche minuto perché devo informarvi del fatto che questo video è sponsorizzato da Grada Records Grada Records è un'etichetta discografica indipendente che mi ha contattata qualche giorno fa per inviarmi questo gadget che apriremo insieme adesso e anche per far sì che parlassi a voi dei servizi che offre il gadget una cassa bluetooth con il loro logo vedete che carino eccola dunque Grada Records potrebbe interessarvi se siete degli artisti che si occupano di musica di cantanti dei cantatori e se state cercando appunto un'etichetta discografica per produrre i vostri pezzi, infatti vi basterà inviare una mail a infochiocciolagradarecords.com, vi lascio comunque giù in descrizione tutti i riferimenti del caso con i vostri brani e loro selezioneranno quelli più interessanti e nel caso i vostri facciano parte di questa selezione si occuperanno di tutte le fasi del processo di produzione, quindi dall'eventuale modifica del testo all'arrangiamento, la registrazione, il mix, il master e poi anche la registrazione del videoclip perché hanno un videomaker che appunto potrà aiutarvi a realizzare il videoclip dei vostri sogni, in più vi seguiranno anche nelle fasi della pubblicazione e della pubblicizzazione del brano, includeranno il brano in tutti i loro canali social e si occuperanno anche di organizzare delle interviste, quindi mi raccomando se vi interessa guardate giù in infobox e visitate anche il loro sito che è www.gratarecords.com. Io comunque ringrazio Gratarecords per aver sponsorizzato questo video e adesso inizio a truccarmi. Inizio spostando un pochino la franta con questa mollettina e vi avevo detto che vi avrei anche parlato di una tentazione alla quale ho ceduto. Intanto faccio un po' di skin care, quindi applico il mio contorno occhi che è questo di Argalia Bio. Mi ci sto trovando bene quindi lo finisco. Allora, ho visto che tantissimi, tantissimi creators youtuber insomma, sia nell'ambito ASMR, ma da molto prima anche appunto nell'ambiente non ASMR, hanno creato delle liste Amazon, cioè delle wish list, cremina, nel quale hanno aggiunto oggetti utili per se stessi oppure per i loro canali YouTube. Io ero un po' restia a creare la mia perché sapete come funziona? Le persone con le quali si condivide questa lista, quindi in questo caso voi, possono, se vogliono, acquistare degli oggetti e farli arrivare come un regalo direttamente dal proprietario della lista, in questo caso appunto da me. E ne ero un po' restia appunto per diverse ragioni. Però poi ho pensato che sarebbe stato comunque molto utile aggiungere a questa lista oggetti esclusivamente utili al canale e quindi permettere a chi vuole di contribuire in qualche modo a far crescere il canale e a migliorarlo. Andate a dare un'occhiata quindi alla lista che vi includerò nell'info box come un link. E vedete se ci sono degli oggetti che vi piacerebbe che io avessi, qualcosa che vi piacerebbe che mi fosse recapitato. Ovviamente solo se vi va. E non lo so, ho l'idea comunque che possiate in qualche modo essere così tanto partecipi del progetto da contribuire, a renderlo possibile e anche sempre più interessante e migliore. Mi piace. Intanto sto applicando il mio contorno in occhi del momento che è il MAC Mineralize Concealer nella colorazione N15. Lo vorrei applicare con un pennellino. Come vi dicevo nella lista ho aggiunto solo cose utili per il canale e Amazon ha dopo introdotto anche la possibilità di fare acquisti attraverso un canale specifico. Quindi potrete se volete fare i vostri prossimi acquisti su Amazon utilizzando il mio link affiliato. A voi non cambia assolutamente nulla ma in cambio il mio canale riceve una piccola commissione. Quindi grazie per chi lo farà. Vado a fissare il correttore con la cipria in polvere indissoluble Sulky Powder di Puro Bio. Mi sta piacendo molto per questo scopo. E nel frattempo vi racconto un po' dell'esperienza con Telia e con Sara. Dunque loro sono arrivate a casa mia a Roma il 2 di novembre e abbiamo trascorso insieme i giorni fino al 5. Ci siamo divertite ma soprattutto abbiamo avuto modo di parlare tantissimo. A posto del fondotinta fluido metto questo di Kiko Wayless Perfection. È un fondotinta compatto in polvere che si può usare anche per la spugnetta bagnata però non mi va. La mia colorazione è abbastanza simile al mio incarnato. Anche se ho notato che mi fa venire un po' di imperfezioni sulla pelle quindi non lo utilizzo spesso. Comunque dicevo abbiamo avuto modo di parlare tantissimissimo di tante cose anche molto private molto personali e personalmente mi sono trovata davvero molto bene. Sara l'avevo già conosciuto a Bologna. Chi mi segue su Instagram lo sa perché ho pubblicato con lei alcune fotografie e in quell'occasione avevamo girato un piccolo vlog per il sana, la fiera del bio insomma. Avevo avuto di lei una bellissima impressione di una persona con una mentalità molto aperta nonostante la giovane età di una maturità spiccata che ha reso piacevole le nostre chiacchierate. Invece Delia non l'avevo mai conosciuta dal vivo, intanto si stiamo un po' le sopracciglia con questa matita di Kiko. Quindi è stata la prima volta che ci siamo viste di persona però abbiamo parlato più volte per messaggio e ci eravamo confrontate su diversi punti e avevo anche avuto modo di capire un pochino la sua personalità da alcuni commenti che aveva lasciato per esempio sul gruppo di ASMR Italia oppure sotto i miei video. E mi aveva dato anche lei l'impressione di una persona molto molto intelligente e dalla mentalità aperta e disponibile. Questa impressione è stata confermata totalmente conoscendola di persona ma ho anche scoperto altri aspetti del suo carattere e per esempio il suo essere veramente molto molto alla mano. Una ragazza con un'empatia e una capacità di comprendere gli altri, di mettersi nei loro panni che davvero mi ha sorpresa. Anche se c'è anche in lei una specie di scorza che la indurisce un pochino e probabilmente per tante cose che comunque ha passato, che ha affrontato nella sua vita. Comunque sono stata super contenta perché mi hanno regalato, oltre appunto a questi momenti davvero piacevoli insieme, dei pensierini lei e Sara. Magari vi metto su Instagram le foto, ma è una tazza per il tè a forma di gatto con una specie di sciarpa, se avete quelle che servono per ottenere al caldo le tazze poi. E' bellissimo davvero. E poi anche un profumatore per ambienti, una specie di... come posso definirla? Non un vaso, sì, un vasetto colorato, di rosso, con del liquido all'interno e dei bastoncini di legno. E io adoro avere casa piena di profumi, quindi hanno veramente indovinato i miei gusti. E in più anche dei tovagliolini a forma di gatto. Si sono accorte anche a Vali e Sara che già si è magico. Questo mi ha fatto molto molto piacere. Intanto applico un mascara molto semplice di Essence, che però dovrebbe essere incurvante, vediamo un po'. E con loro ho introdotto un nuovo format nel canale. E sono molto felice che siano state le mie prime ospiti, anche se immagino che il video di Vali andrà online più tardi rispetto a quello di Sara. Poi negli stessi giorni è venuto a trovarci anche Dorian, ASMR Dorian. Non so quanti di voi lo conoscono, ma noi lo adoriamo, lo troviamo assolutamente geniale. E poi insomma abbiamo anche chiacchierato un po' della nostra esperienza su YouTube. E di cosa significa per noi avere questo canale, come ci siamo trovate nella community. e quali persone ci apprezzano di più e quali invece non si trovano in linea con i nostri modi di fare. Insomma, si scoprono tante cose chiacchierando ed è davvero istruttivo conoscere nuovi punti di vista e accorgersi degli altri, di come la pensano. Mi è sembrato che ci conoscessimo da una vita per la confidenza, che siamo riuscite in pochissimo tempo a instaurare. Però allo stesso tempo è stato uno scambio continuo, continuo a impararsi. Con questo pennellino faccio poco 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 contouring. Quindi, utilizzo la mia terra di Wicon, come al solito. Spero per l'altro che non vi diano troppo fastidio i rumori ambientali, ma come vi ho detto all'inizio, questo sarà un video veramente molto molto semplice, casereggio, giusto per chiacchierare insieme. E c'è anche un'altra novità che vorrei comunicarvi, ovvero che nei prossimi giorni sul canale sarà indetto un giveaway, perché voglio regalare a qualcuno di voi delle cuffie slipfonds. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che ho anche collaborato con il marchio slipfonds, sia in occasione dell'evento ASMR che si era ottenuto a Roma a maggio, sia per l'edizione speciale delle slipfonds, quella contenente le tracce di diversi artisti ASMR. pensate per farvi rilassare, infatti ho il mio blushino qui, di Sephora, che ha una parte fredda e una parte calda, io le biscello, perché quella fredda è troppo fredda che quella calda non mi sta bene. Ultimamente comunque mi sto truccando proprio poco, non sto neanche mettendo il blush. Lo faccio solo quando ho veramente voglia. quindi sì, ci sarà questo giveaway. A breve, metto l'illuminante prima di passare alle labbra. Uso questo, ormai uso solo questo. È il Brunch Club di Primark. Mi sembra che l'abbia comprato da Primark. Guardate, è molto carino. È proprio un colore bellissimo, secondo me. Quindi, andiamo a mettere qui. 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 E qui. Ora io con il rossetto sono abbastanza in crisi, perché vorrei andare ad applicare D4Danger di MAC, che ha questo bellissimo colore vino. Veramente bello, bello. È molto armo cromatico, tra l'altro, senti me. Però non ho una matita rosso scuro. La devo comprare. E con il rossetto rosso della matita c'è bisogno, per evitare di fare disastri. Ho solo questo rosso qui, che è un po' più chiaro. E solitamente non va molto bene contornare le labbra con una matita che sia più chiara del rossetto. Però vediamo un po' che cosa esce fuori. Grazie. 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 Intanto c'è la bambina della mia vicina che ride. Ora male è sempre piacevole dire a bambini che sorridono, ridono. Alla fine non è andata tanto male. Vediamo un po' l'effetto finale. Ok, ovviamente dovrò sistemare i capelli. E si, in pratica siamo ancora nella prima parte della giornata, io sono già pronta per la sera. Ottimo. Bene, il mio profumo oggi sarà questo. Dior Addict, tra l'altro, non so se riuscite a vederlo, ma c'è scritto veri ASMR qui, giusto sulla bottiglietta. È andato un po' via il materiale brillantinato, però l'incisione si vede ancora. È un profumo buonissimo questo. È un cipriato. È dolce, molto dolce. Sa di fiori bianchi e, non lo so, talco. È decisamente uno dei miei profumi preferiti per l'inverno. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, anche se appunto è stato molto molto semplice. E grazie ancora a Grata Records, sia per l'invio di questo piccolo gadget che andrò a utilizzare subito. Magari può essere utile anche per ascoltare video ASMR senza il cuffio. E sia per aver sponsorizzato questo video. E grazie a voi per essere arrivati fino a qui. Prima di andare via, lasciate un mi piace, vi raccomando. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Ma se siete già iscritti, ricliccate sulla campanella e scegliete ricevi tutte le notifiche, mi raccomando. Bene, fatemi sapere se vi siete rilassati. E noi ci vediamo come al solito, se vi va, nel prossimo video. Bacini fatosi. Adesso, tocca a te. Hai già lasciato il mi piace? Iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista. Oppure abbonati, se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew. Ah, e se vuoi continuare a rilassarti, clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno. Penso possano piacerti. Buonanotte. いやónimo. Un po' di là di questo video si senti te lo intendo. È scog Glueck available! A capacity di tutto 0.5 cm.